Non stanno nella pelle dalla gioia, Diaz si improvvisa campione di carambola per consentire a Matteus di siglare il secondo gol tutto tedesco. Sette reti in due partite. Anche per Matteoli è finito l'incubo. Sto sempre fatto, eccomi qua. Il presidente pisano Anconetani. Eravamo arrivati a 12 minuti dalla fine. Su rigore con Matteus. I nero-azzurri vanno a segno a Diaz e a Matteus e il gioco è fatto. Si esibisce positivamente dal dischetto. Per Paradisi diventa un inferno. Ciao, man! Il terzo gol è tedesco. Formidabile, Matteus! Il tedesco ripete la prudezza per gli amici e ci aggiunge un po' di danza teotonica. Siamo ormai alla poterosa. Anche se ferri, infortunato al già dischetto, Matteus ha segnato. Il secondo gol è... Poi, il gioco in attesa di punizione, ha dato lo spoglietto all'inizio. Il senso è atterrato subito alla felicità. Non fallisce e le speranze dei famosi record riaffiorano. Basta vincere per superare i 55 punti della Juventus. La grande sfida di Milano. Inter in vantaggio con un pesimo minuto. Ed è gol. Pazzagli si lascia passare il pallone dopo aver intruito la traiettoria tra le braccia. Matteus fa la dieta dei rigori ed il pallottoliere dice che siamo sul 4 a 1. Mania riunificata e Matteus segna il gol numero 5 su un beccata di Quinsman. L'arbitro... ... ... ...